Signori miei, continua, continua, il botta e risposta tra Inter e Juventus a suon di punti e adesso anche a suon di gol perché Juventus sta trovando regolarità anche nelle marcature e quando, come già abbiamo sottolineato più volte, hai un parco attaccante composto da Hildiz, Vlaovic, Chiesa, Milik, ti puoi permettere l'uso di Chien, di sbolognarlo chissà dove. Le cose si fanno dure, voglio entrare anche nell'ambito tattico perché spesso cerchiamo anche un po' per partito preso di togliere dei meriti ad Allegri e di dire sì a giocatori che poi alla fine, lo vedete, non sono scarsi, sì questo è vero, ma anche dal punto di vista tattico adesso vedo un Juventus diverso, a me piace partire sempre dalla fine che è quello che mi rimane impresso subito, l'ultimo gol della Juventus, come nasce? Nasce da una pressione alta, da un'aggressione, da un'aggressione che la Juventus fa adesso anche al novantesimo, cioè prima giocava Sieno a quel 5, 10, 15 minuti standard, dopo chiusura ricermetica, stop. Adesso la Juventus fa la prima aggressione, la fa sempre sistematicamente, prima aggredisce, se non riesce a prendere la palla poi si rintana come qualsiasi altra squadra perché poi si difende e si attacca in 11, quindi non è che è peccato mettersi dietro la linea della palla, ecco, poi non usciamocene con queste solite accuse. E' questa pressione, questa grinta, questa voglia, questa fame che io vedo in questo momento in entrambe le squadre, tanto per l'Inter quanto per la Juventus, per l'Inter tipo nell'ultima gara contro il Monza, abbiamo visto quei 15 minuti dove c'è proprio la voglia subito di cannibalizzare l'incontro, e la Juventus magari non con la stessa intensità ma sicuramente nella durata dei 90 minuti si dimostra ugualmente e sostanzialmente affamata. Mamma che lotta che esce fuori per il campionato, signori miei, mamma che lotta che esce fuori per il campionato, diciamocelo, perché questo potrebbe davvero, vista anche un po' con l'occhio dello sportivo, può essere veramente una bella sfida, cioè noi, che lo sappiamo già, però può risultare uno dei campionati più belli e allo stesso tempo anche più drammatici di sempre, perché poi se se lo giocano l'Inter-Juventus lo scudetto e se lo fanno fino alla fine, ci ricordiamo del 5 maggio a distanza di quanti anni, come se fosse ieri, io anzi nasco tifoso traumatizzato da quell'incontro, per esempio, da quella sfida là, era la mia prima annata del tifoso, quindi stiamo parlando di una stagione, ragazzi, che davvero questa possiamo ricordarcela noi, possiamo narrarla magari ai nostri figli o domani ai nostri nipoti, sto viaggiando di fantasia? Non lo so, non lo so se viaggio di fantasia o meno, quindi mi aspetta un'annata dove spero di non perdere tutti i capelli, perché è dura, potrebbe davvero essere stressante, poi sotto l'aspetto del tifoso, ovviamente, e venendo alla Juventus adesso ci sono giocatori determinanti, io ascoltavo Parolo e gli devo dare ragione quando c'è l'ossatura centrale della Juventus che davvero funziona, partita d'ascese in porta, Bremer in difesa, sì, lo stesso Locatelli che comunque se lo fa, ma io a centrocampio ci metto Rabiot, e davanti, davanti onestamente è difficile metterne uno, però, è difficile metterne, perché anche Ilditz, anche oggi, dove tu dici, ma forse ha fatto meno rispetto a lei, perché va abituato troppo bene Ilditz, ma stiamo parlando di uno che salta sempre all'uomo, almeno uno, ne punta, te lo salta sempre, guadagna punizioni, fa ammonire gli avversari, è un giocatore, anche lui, ragazzi, che è questa età, non pensavo potesse essere così decisiva, e in questo momento è anche continuo, ripeto, continua nel rendimento, e poi stasera è d'obbligo parlare ancora una volta di Bravici, che forse finalmente ci rendiamo conto che non è un pippone, scusate se lo dico anche volgarmente, però davvero qualcuno l'ha appeso con il chiodo, e no, no, lo aveva bollato veramente come pacco assoluto, no, ragazzi, purtroppo facciamo fatica ad accettare che nel calcio ci siano due cose che incidono, secondo me, tantissimo, la testa dei giocatori e anche la disposizione tattica, quindi come vengono in qualche modo aiutati, come vengono, l'ho detto l'altra sera, non mi esco le parole, i giocatori devono essere sfruttati per le loro abilità, ecco, secondo me prima l'Avventus lo faceva meno, e lui ha avuto delle frugolità, e lui mentalmente ha avuto delle, senza ombra di dubbio, delle fragilità, adesso che sta avendo un minimo continuità, stiamo prendendo che è un giocatore anche di classe, ma proprio di qualità, perché il gol che fa sul punizione, è un gol di estrema qualità, proprio di estrema qualità, di estrema balistica, giocatore che, ragazzi, vedete le immagini che magari più che altro quelle che arrivano dai social, visti con la telecamera da dietro, la pralla, prende un giro clamoroso, e lì a consigli non gli è inputo nessun torto, cosa che invece poi devo fare sul primo, volendo anche sull'ultimo gol, che è vero che era vicino, ma era anche un tiro abbastanza lentino, e forse poteva fare meglio, però su quel gol la Vlaovic dimostra, ripeto, classe, e adesso, come vedete, è bravo anche nell'accompagnare la squadra, nel lavoro di pulizia, secondo me è difficile che raggiunghi i livelli di Milac, perché non sono le sue caratteristiche, ma ragazzi, dove è forte, dove è forte in aria, nei colpi di testa, nel sinistro, lì è forte, punto, stop, e adesso che ci sta, non si può assolutamente discutere ragazzi, ma questo è un giocatore che era una macchina da gol, la Fiorentina era una macchina da gol, un giocatore che ovviamente si è pagato 70-75 milioni ragazzi, stiamo parlando di un giocatorino così, doveva uscire prima o poi, e sta uscendo, e c'è voluto un po', ma adesso l'Ariventus ha anche Vlauch dalla sua, l'Ariventus che anche oggi amministra molto bene, si porta avanti, amministra, concede il giusto, qualche tiro dell'Oriente, poca roba, ma è una squadra che, ripeto, ci sta nella partita, e difficilmente si fa sorprendere, e quando accade, vede nel secondo tempo il tiro di Berardi, la transizione che fa il Sassuolo, trova anche uno Szczesny impeccabile, anche Szczesny impeccabile, perché ti deviano il tiro, veramente lì era una mina, e lui riesce comunque in una frazione di seconda a metterla, lì fa una parata clamorosa Szczesny, che se all'andata si è fatto rimbiangere, stasera clamoroso, ma Szczesny è da parecchie partite che ci sta, ed è serio, anche sul primo tempo quel tiro dell'Oriente, che comunque gli schizza, gli va a rimbalzare proprio nel mentre, non era semplice, non era assolutamente, non era proprio semplice, e la differenza del portiere pure si evince, ovvio che i consigli, dalla sua invece non è stata all'altezza come Szczesny, ma questo è normale, uno gioca nel Sassuolo, l'altro gioca nella Juventus. Ovvio che, per quanto riguarda il Sassuolo, una cosa fatemela dire, io sono andato a vedere, loro c'hanno cragno, loro c'hanno cragno, io onestamente, perché non è che le papere consigli ha fatto solo stasera, o comunque non è stato impeccabile, per cui, se c'hai cragno, io ci penserei, caro Dioniso, un pochettino, tra un snack e una pausa pranzo, io ci penserei, va bene? Un grande abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, se volete iscrivervi al canale, fate quello che vi pare, signori miei, buonanotte.